composizione è quella ragione di dipignere con la quale le parti delle cose vedute si pongono insieme in pittura grandissima opera del pittore non uno collosso ma istoria maggiore loda d'ingegno rende l'istoria che qualsia collosso parte della storia sono i corpi parte dei corpi i membri parte dei membri la superficie le prime adunque parte del dipignere sono le superficie nasce della composizione delle superficie quella grazia nei corpi quale dicono bellezza vedessi uno viso il quale abbia sue superficie chi grandi e chi piccole qui vi ben rilevate e qui ben drento riposto simile al viso delle vecchierelle questo essere in aspetto bruttissimo ma quelli visi saranno le superficie giunte in modo che piglino ombre e lumi a meni e suavi ne abbino asperitate alcuna di rilevati canti certo diremo questi essere formosi e delicati visi adunque in questa composizione di superficie molto si cerca la grazia e bellezza delle cose quale a chi voglia seguirla pare a me né una più adatta e più certa via che dittorla dalla natura ponendo mente in che modo la natura maravigliosa artefice delle cose bene abbia in bei corpi composte le superficie a quale imitarla si conviene molto avervi continuo pensieri e cura insieme e molto dilettarsi del nostro qual di sopra dicemmo velo e quando vogliamo mettere in opera quanto avremo compreso dalla natura prima sempre avremo notato i termini dove tiriamo ad un certo luogo le nostre linee a a a a Grazie a tutti.